Odrio Zola alla Roma, eccola sull'esterno delle Real Madrid. Roma le voci ieri si sono rincorse per Odrio Zola alla Roma. Rumors di mercato causate dalla visita di Beppe Bozzo a Trigoria. L'intermediario che ha curato un anno e mezzo fa il passaggio in prestito dell'esterno delle Real Madrid alla Fiorentina ha avuto un incontro con Tiago Pinto per parlare del mercato e di alcuni suoi assistiti. Non di Odrio Zola Odrio Zola alla Roma, ecco la verità il terzino ex Real Sociedad infatti non rientra nei piani della Roma. O meglio, non rientra nei piani di Mourinho che non sta prendendo in considerazione una sua candidatura per il ruolo che lascerà scoperto Rick Arsdorp. Odrio Zola quindi non vestirà la maglia giallorossa, la Roma è orientata su altri obiettivi, il GM giallorosso potrebbe nuovamente pescare in Premier League dove Mourinho ha giocatori che stima e che potrebbe essere un'altra cosa. Non dovrebbero fare al caso della Roma. Virgola.